Un caffè che vale espresso scende moca sale E' un business coach con una particolare attenzione e predirizione per il team, per l'allineamento delle squadre Uno dei suoi siti è team allineati, potete andare a vedere cosa fa rispetto al team E poi mauriziopapa.com, il suo personal branding dove trovate tutto, la sua storia perché fa questo mestiere Ma il caffè oggi lo facciamo esattamente per questo, per capire chi è Maurizio e per trarre insegnamento dalla storia di Maurizio E dalle soluzioni che Maurizio Papa porta nel mondo dell'imprenditoria italiana Vi aspetto fra un po' per un caffè davvero energetico che lascerà un bel sapore, ne sono certo Un caffè che vale espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te Pronti a servirvi anche oggi un nuovo caffè? Sono particolarmente contento anche di questo caffè Perché so che in questo momento della nostra vita, rispetto a quello che stiamo vivendo Il tema della formazione anche con noi stessi, con quello che siamo, è importante Allora invitare personalità come quella di Maurizio Papa, lo vedete, è davvero un piacere E so essere una risorsa per tutti voi, quindi rimanete nei prossimi minuti con noi Perché vi parlerò di quello che accade quando siamo in più di uno Cioè quando dobbiamo raggiungere un risultato avendo un'altra persona che ha lo stesso obiettivo con noi Tipicamente in una squadra aziendale Ecco questo è il lavoro detto in maniera molto semplice di Maurizio Papa Che appunto è un business coach Ben trovato Maurizio Grazie Piero dell'invito, sono felicissimo di essere qui Insomma ti prendi dei grattacapi non da poco perché so che i conflitti nelle aziende sono una cosa molto seria Assolutamente, vero ma molto molto appassionante e veramente porta grandi risultati Perché bisogna sempre passare prima dalle persone, dalle loro emozioni, da quello che accade realmente E il conflitto non è una cosa negativa ma è una fantastica spia che ci permette di capire che è importante occuparsi di qualcosa prima di fare le solite cose E come nascono questi conflitti? Cioè da dove arrivano? Ognuno se li porta dietro nel proprio bagaglio o cos'altro? Guarda i conflitti nascono fondamentalmente prima di tutto da le caratteristiche e le personalità di ogni personale che compone una squadra Quindi ognuno di noi è differente, lo sappiamo, c'è quello molto ambizioso che vuole arrivare da qualche parte spesso molto velocemente C'è invece la persona più cauta, più ponderata, sì è vero l'obiettivo ma dobbiamo avere un ritmo, prima dobbiamo verificare, fare un programma Già questa differenza di mentalità crea divergenze perché se vai con calma non vai velocemente E il modo superficiale contestato rispetto approfondiamo le cose In realtà le due differenze se le mettiamo in squadra fanno la differenza, veramente la squadra ha un potere importante La vera questione è che noi facciamo fatica a trovare del valore nelle differenze dell'altro Siccome è differente è allora per me un problema, invece no, uniamo le differenze, diventiamo compatti e allora nasce la squadra Mi affascina molto quello che fai Maurizio perché nel fare quello che faccio io invece a raccontare storie Spesso mi sono reso conto quando proiettavo la storia finita all'imprenditore che il primo che si stupiva su quella storia era lui Era come se non si conoscesse Certo, certo assolutamente perché l'imprenditore è molto preso nel suo sogno Lui ha già l'idea, ok? Poi come realizzarla anche quella più o meno ce l'ha però c'è anche da dire che la delega ai collaboratori Ma la questione è che il collaboratore non ha partecipato purtroppo e molto spesso accade al suo sogno Quindi il collaboratore è molto orientato a fare le cose fatte bene Ma che è diverso però dal costruire verso un sogno E allora il mio lavoro significa portare il team leader, si chiama così, l'imprenditore A comunicare, condividere la sua idea in modo tale che diventi patrimonio di tutti, della sua squadra E questo è un passo fondamentale E poi far sì che il collaboratore si identifichi in questa strategia e dia il veramente proprio meglio Ma non soltanto in termini di motivazione e coinvolgimento Ma con le capacità, con il guizzo mentale, con l'intuito per fare quella cosa che serve Quindi bisogna averlo un film aziendale e bisogna anche saperlo decodificare? Tassativo, tassativo, senza film non andiamo da nessuna parte Il contrario di film è concentrati sul qui ed ora e quindi non si può crescere Io ho una frase Piero che dico da sempre che il fuori è la fotocopia del dentro Se io ho dentro l'idea di un certo tipo è molto più probabile che il fuori diventi come la mia idea E se io non ho l'idea il fuori non cambierà Qualche volta l'idea ce l'ho ma magari è sbagliata Ecco, come te ne rendi conto e come se ne rende conto soprattutto un gruppo? Perché fino a quando dobbiamo lavorare sull'individuo è difficile ma almeno è uno Quando dobbiamo allineare che uno dei pezzi forti del tuo lavoro più soggetti è più complicato Ma non impossibile Assolutamente, chiaramente tieni conto Piero che per fare queste cose bisogna seguire un metodo E quindi uno dei primi elementi del metodo è Aiutiamo l'imprenditore a scaricare a terra, a mettere nero su bianco l'idea Perché l'idea è fantastica, poverina, ma è un problema Spesso è astratta Le cose astratte non piacciono molto alla nostra mente Che sanno un po' di evanescente Cominciamo a mettere nero su bianco l'idea che significa Chi sei tu imprenditore, qual è la tua caratteristica, il tuo punto di forza e di conseguenza qual è il valore che vuoi dare al mercato, ai clienti Già confermare questi due elementi cambia la vita all'imprenditore stesso che è molto più consapevole di chi è Qual è la sua forza, a cosa serve nei confronti del cliente e del mercato Sto vedendo il tuo sito, tu scrivi chi è un vero leader È una persona che guida, motiva e entusiasma la sua squadra Tre termini, guidare, motivare ed entusiasmare Normalmente li trovi nel leader che incroci? Li trovo come potenziale Non sempre è diventato realtà Non sempre scarica a terra in attività quotidiane E questo gap crea un sacco di problemi Spieghiamo anche a chi ci segue da casa cosa vuol dire guidare, motivare ed entusiasmare Guidare è molto diverso da spingere Guidare è molto diverso dal mio aspetto che tu faccia Guidare è l'elemento chiave della leadership e del leader Perché colui che ha l'idea chiara di dove vuole andare Comunica veramente gli step di progetto e come arrivarci Sapendo anche quali sono le difficoltà dei vari collaboratori Sulla base delle loro caratteristiche E allora li sa guidare, come dire, prevedendo dove potrà accadere il manager Io lo anticipo, lo supporto, anziché insultarlo quando scivola Cambia totalmente la questione Non dico che bisogna quindi essere buoni, non è quello il trucco Ma bisogna prevedere e considerare le difficoltà del manager Come facenti parte di un percorso E il leader se ne preoccupa e guida nel miglioramento Perché realmente, Piero, il lavoro è una scusa, tra virgolette Per migliorare noi stessi Perché è l'unico modo che abbiamo per misurare Noi nei confronti del risultato e ci costringe a misurarci con gli altri Quindi la guida è Oltre a quello che tu faresti naturalmente Fai quest'altra cosina, guarda il risultato E poi c'è motivare Che sembrerebbe una cosa che ti nasce dentro proprio alla nascita Sei un bambino motivato In parte è vero Qualcuno è più fortunato Però poi invece la motivazione è qualcosa di più complesso, no? La motivazione è il carburante di qualunque automobile Una Ferrari senza benzina è ferma come una 500 La questione è che la motivazione è come la schiuma della birra All'inizio ce l'hai, l'entusiasmo Ma poi naturalmente cala e scende Il leader ha sviluppato quella sensibilità e capacità Di rinvigorire questa schiuma, questa motivazione Perché altrimenti sa che se stesso e collaboratori Non marcerebbero al ritmo adeguato La motivazione quindi è necessario comprendere e sapere che cos'è Come si fa ad attivare, come si fa a mantenere Come si fa a indirizzare nella direzione corretta Bisogna fare di incazzare i leader per motivarli Vabbè loro si automotivano da soli Basta che guardano talvolta le banche, gli insoluti E se si vengono la mattina sono già motivati di loro Diciamo che la motivazione è quasi intrinseca in una partita IVA E il terzo elemento è l'entusiasmo Invece parliamo di quest'altra, hai parlato prima di benzina Beh qui siamo davvero nel pieno della benzina L'entusiasmo nasce dalla consapevolezza di qual è il progetto Chi sono io e qual è il ruolo, l'importanza che io ho nei confronti del progetto Questo mi entusiasma perché allora mi fa partire il film Ma allora insomma non sono soltanto un omino che fa le cose meccaniche di routine Vuol dire che io apporto un valore Quasi quasi se io non ci sono questo progetto cambia Allora l'entusiasmo è quell'altro tipo di carburante Che ci mantiene sempre freschi nei confronti delle cose da fare E anche delle difficoltà Maurizio in una delle ultime puntate del Caffè Ho parlato della storia di Marco Pantani È una storia davvero drammatica Soprattutto in termini di narrazione Nella parte finale quando aveva più bisogno È stato abbandonato persino dalla sua città Ecco noi siamo abituati a vedere i campioni Intanto come infallibili E pensiamo anche che il campione diventa campione da solo Invece spesso il campione ha un coach Sto partendo da questa storia per dire Se lo fa un campione lo possiamo fare anche noi Perché molti imprenditori che ci guardano Invece vedono nel coach una sorta di baglia Dice non ne ho bisogno Io so quello che devo fare La vedono un po' come un'offesa Ti capita di sentire questo sentimento e se sì perché? Sì capita anche se sempre meno Perché di fatto la questione è questa Piero Il mercato sta cambiando molto velocemente Più di prima Ci porta a fare cose che solitamente noi non siamo pronti a fare Non facciamo e non faremmo Questo significa apertura mentale Il famoso mindset Vuol dire nuove competenze Ma gestire il cambiamento veloce ed efficiente Non è una cosa che si apprende costantemente dal quotidiano Ma sono degli strumenti che bisogna studiare appositamente Inoltre non nascondo che ci vuole anche qualche dono Una virtù da parte della persona Che decide di collegare una visione astratta a delle persone Da qui nasce la professione Quindi di fatto sempre di più l'imprenditore si è reso conto che È necessario accelerare il cambiamento Ma per farlo ci vuole il metodo giusto La persona giusta Che è anche importante che non sia coinvolta emotivamente nella situazione Quello che noi possiamo vedere da fuori È molto diverso da quello che vediamo dall'interno Quindi conosce gli strumenti Avere la sensibilità per leggere le personalità e metterle in bolla Conoscere anche i modelli e i processi Per far girare dei ruoli delle persone Fa sicuramente la differenza Questo un imprenditore lo comprende sempre di più E quindi se vado a fare qualcosa Di portare all'argomento concreto È molto importante dedicare del denaro Con certezza che sai quanto investi Non spendi Sapendo cosa torna Il fatto di essere istintivo costa molto di più Spesso il valore del tuo lavoro Lo capisci proprio mentre lavori Mentre fai quello in cui credi Ecco mi racconti qualche aneddoto Qualcosa che ti è stata detta Restituita Che ti ha fatto particolarmente piacere Che hai ricevuto proprio da un imprenditore Che hai seguito in un processo di coaching individuale Sì assolutamente Questo mi capita perché Io chiedo costantemente all'imprenditore Dammi dei feedback su quello che stai vivendo Quello che sta accadendo Da quando lavoriamo insieme Facciamo i percorsi Guarda quello che mi è piaciuto di più Mi ricordo mi ha colpito tanto E un imprenditore mi disse Guarda Lavorando con te È come se tu mi avessi pulito il parabrezza Il parabrezza Ho capito tutto Chi sono io Dove sto andando Quello che stavo facendo Non andava bene Adesso è tutto più chiaro Ma è molto bello perché Dà l'idea che L'hai messo nelle condizioni Di guardare meglio La strada che ha davanti Sì e pulendo il parabrezza Da tutte queste difficoltà Convinzioni Cose dove noi ci arrotoliamo Molto spesso Faticando e anche per niente Un'altra sicuramente È quella che mi ricordo Mi disse Guarda Grazie a questa cosa Io adesso posso dedicare Veramente le mie ore Le mie giornate Al mio progetto E non più ai piccoli problemi Che mi capitavano tutti i giorni Che ho scoperto Di essere io Di essere stato io il creatore Di questi problemi Questo è un altro grande film Wow wow Quanto dura normalmente Un processo E un progetto Perché sono dei veri e propri progetti Di coaching Individuale In questo caso Poi andiamo alla squadra Sì Minimo sono sei mesi Di lavoro Perché io ho bisogno Di un alleato Che si chiama tempo Perché cominciare a lavorare Con una persona È molto profondo Molto sensibile Molto delicato Come lavoro Perché sembra che parliamo Di fatturato KPI Indicatori Ma quelli arrivano In realtà dopo Perché sono un risultato Di qualcosa Prima di tutto Parliamo di chi è Chi è quell'imprenditore Chi è veramente Cos'è che deve sapere Conoscere meglio di sé Sia come punti di forza Ma anche quelli di debolezza Perché c'è una cosa Molto importante Piero I punti di debolezza Non è che lì nascondi E c'è quello di forza Che compensa È esattamente il contrario Il punto di debolezza Il punto di debolezza Sporca quello di forza È come entrare in una casa Io faccio sempre esempio Dico man mano che la pulisci La metti a posto E ogni cosa è giusta E quel difetto Quel quadro sbagliato O quel puntino nel muro Lo noti di più Assolutamente Assolutamente E quindi la persona Quando comprende questo Comincia a rimappare Si dice il suo comportamento Comincia a farci caso E allora Comincia a fare già qualcosa Prima che accada Quella caduta di performance Si chiama così E quindi comincia A indirizzarsi Nella modalità migliore Usando il suo punto di forza Questo chiaramente È positivamente dilagante Perché i collaboratori Se ne accorgono E quindi si porranno In modo diverso con lui Lui si porrà in modo diverso Con i collaboratori Quindi comincia a svilupparsi La meraviglia Sei mesi perché Perché prima ci occupiamo Della persona Poi si lavora Sulla capacità di creare E gestire una squadra E poi si va proprio Sul modello di business Che vuol dire Qual è il valore Che diamo al mercato Attraverso quali modalità E nell'insieme Persona, squadra E modello di business Fanno emergere la meraviglia Senti Chi ci guarda da casa Poi noi attorno al caffè Stiamo sviluppando Un vero e proprio progetto Che si chiama Italia Vale Che mette insieme Professionisti Imprenditori Insomma Tutta quella parte Se vuoi aspirazionale Del nostro paese Che poi anche La più interessante Qualcuno si starà chiedendo Eh ma bello Ma quanto costa Ma è alla mia portata Ecco Ti chiedo Un'operazione Di coaching Individuale Solo per grandi aziende O può prenderla In considerazione Anche un imprenditore Medio piccolo Sicuramente Anche l'imprenditore Medio piccolo Io naturalmente È un target Sulla PMI Quindi PMI Sai quei fatturati Da 5-8 milioni Fino agli 80-90 Prende una forbice Molto ampia Di qualunque settore Meoceologico Ma perché Realmente Il metodo È più portente Della specializzazione Specifica Di quel tipo Di azienda Di fatturato La questione È che in realtà È un mondo Ormai aperto Sia alle PMI Di un certo fatturato Ma anche alle start up O quelle più piccoline Perché Naturalmente Se la struttura È più piccola Le modalità Sono più leggere Per gestire Un team Da 6-8 persone Differente Che gestirono Da 30 O da 50 Anche se Nel mio mondo Fondamentalmente È un team Immagine fatto Dall'amministratore delegato O dal CDA Insieme ai primi ministri Che si occupano Delle funzioni fondamentali Quindi bene o male Sono 15 persone Io a parte il Covid Che ormai sto lavorando Totalmente online Con risultati Guarda Incredibile Fantastici Ma ho sempre lavorato In presenza Con tavoli da 15 persone Davanti a me Che corrispondono Ai titolari Della funzione Responsabile commerciale Amministrativo Prodotto E quant'altro E quindi Ormai è aperta Un po' a tutti E il percorso Dei 6 mesi Comunque È il minimo Che serve A modificare Questo mindset A far vedere Dei risultati Importanti Di cambiamento Prima comportamentale Poi di approccio E poi finalmente Di numeri Ecco Hai citato il Covid Quindi questo Mi sollecita Una domanda Che va in direzione Dei momenti Di crisi Il Covid È una pandemia Insomma Non prevista Arriva questa roba Entra nelle aziende Anche lì Un team Che magari Lavorava bene E viene in qualche modo Messo a dura prova Da un fatto esterno Ecco parliamo anche Di quanto I fattori esterni In questo caso Eclatanti Possono andare A destabilizzare Un gruppo Che magari Era già Ad un buon livello Di cosa ti stai Accorgendo In questo momento Qual è la domanda forte Che ti viene fatta Nelle aziende In che modo Intervieni Prima di tutto Piero faccio una premessa Il Covid Anche se è arrivato In modo veramente Strong Immediato E profondo Fa parte Della grande famiglia Change management Il cambiamento Il cambiamento Non rallenta Da una notte di tempi Cambia Gira Il mondo gira Più velocemente Della capacità Di adattamento Dell'individuo E questo è veramente Lo stress del cambiamento Ma il cambiamento fuori È sempre avvenuto La bellezza del leader E del team È quella di Confermare Trasformare Quel cambiamento fuori In un cambiamento dentro Per rimanere attuali E attrattivi Nei confronti del mercato Questo è il primo concetto Di change management Nella questione Covid Cosa mi viene chiesto Fondamentalmente Di ritrovare O una strada maestra Perché delle volte Cancella un po' Quell'equilibrio Quella chiarezza Di visione Adesso come faccio Dall'altra parte È richiesto Un forte lavoro Anche di aggancio Dei vari manager Perché questo Ha avuto un impatto Emozionale Ha avuto un impatto Sulle abitudini Si lavora da casa Ha avuto un impatto Quasi sul Ma io quindi A cosa servo adesso Così a distanza Quindi la domanda è Aiutami a recuperare La strategia Aiutami a rivedere La strategia Con questo cambiamento Allinami i collaboratori In termini di carica Di motivazione Ma anche di modo Perché cambia il modo Con un cambiamento esterno Così importante Stiamo parlando con Maurizio Papa Business coach Ci sta introducendo In questo mondo Affascinante Che vede le imprese Non lasciate Da sole Affiancate Da delle figure Ecco queste Figure Sono figure Oggi davvero Importanti Perché Il mondo Dell'impresa Abbiamo visto Cambia Continuamente E immaginare Di trovare Le soluzioni Solo all'interno Della propria azienda È diventata davvero Qualcosa di impossibile Praticamente E molte imprese Fortunatamente Lo stanno capendo Questo oltretutto Genera una ricaduta Anche in tantissimi Professionisti Come Maurizio In Italia Che hanno fatto Di questo lavoro La loro passione La loro missione Di vita E stanno aiutando Tante aziende A resistere Perché poi Questo impatta molto Maurizio Anche col tema Della responsabilità Sociale D'impresa Per molto tempo L'impresa È stata vista Come una cosa Interna Solo familiare Dell'imprenditore E dei pochi vicini In realtà Ci siamo resi conto Che l'impresa Impatta In quello Che è il sistema Paese Assolutamente Sì E ti incontro Poi che La PMI in Italia È di altissima frequenza Cioè sono i mattoni Dell'economia Quindi la PMI in Italia Ha fatto la differenza La qualità Di questo imprenditore Che comunque È molto impetuoso E ambizioso E ha sempre voluto Portare il suo valore La sua idea Nei confronti del mercato E questo è il suo bello E quindi Arriviamo anzi Da un mondo Dove l'imprenditore Era più ambizioso E vigoroso Che scolarizzato No? Il dopoguerra Anni 50 60 Oggi i figli Passaggio generazionale Sono molto più scolarizzati Meno impetuosi E quindi arrivano ai risultati In modo più razionale Più misurato Ma le PMI oggi Sono ancora straordinarie Per questo potere Che hanno Il fondatore Il papà Che è il cuore Che pulsa E i figli Che allineano Questo cuore Che pulsa Nella frase Tutto vero papà Vediamo un pochino Di indicatori Vediamo un pochino Come fare E questa cosa È veramente Si può ancora toccare Maurizio Perché l'ha detta Due o tre volte In qualche riunione Dove parla sempre lui Gli altri dicono Si con la testa Ma poi realmente Non hanno mai giocato Perché La condivisione Non è te l'ho detto La condivisione Ti lancio un'idea Dimmi cosa ne pensi Nel bene e nel male Vediamo come poterla migliorare Perché Un'idea Imprenditoriale È più o meno come una canzone Quando io l'ho scritta E gli altri la fischiettano Non è più mia Per fortuna È della collettività L'idea deve diventare Della collettività Il primo errore È che l'imprenditore Crede di avere condiviso l'idea Ma gliela Semplicemente Detta o raccontata Gli altri non giocano Quindi Primo L'imprenditore deve cominciare Veramente a condividere l'idea Che non vuol dire Che non puoi dirmi no O che secondo te non va Devi anzi dirmelo Perché migliora la mia idea Secondo È che di fatto L'imprenditore Lavora con i collaboratori Con i manager Ma ne usa Si dice Soltanto la parte meccanica Fai questo Fai quello In realtà invece Ci vorrebbe un ingaggio manageriale L'ingaggio è Tu Persona Sei responsabile Dell'area R&D Cosa mi devi garantire Come risultato Fissiamo insieme degli obiettivi Quali sono le attività core Questo ingaggio manageriale Fa veramente la differenza Perché rende tutti consapevoli Di dove devo andare Dove no E cosa ti aspetti Tu veramente imprenditore Da me Questo elemento non c'è mai Ma viene banalizzato Quindi il secondo errore è Parlo alla persona Non al ruolo Dopo scontate tante attività E responsabilità Non accadono E poi l'imprenditore si arrabbia È una criticità non da poco La terza Facciamo così Una sintesi estrema È che di fatto Non c'è un vero rapporto Con la squadra Non c'è un vero rapporto Con il collaboratore Attraverso dei one to one Dove l'imprenditore Si occupa di loro Ma si parla Quando le persone si incontrano Si incontrano solo per parlare Di problemi Quindi non si cresce E invece veramente L'imprenditore Essendo leader Dovrebbe occuparsi Della crescita Del suo manager Benvengano gli errori Perché quelli servono Per capire Su cosa mi devo concentrare Per farlo migliorare Non deve essere qualcosa Da attacciare Quindi il terzo errore Fondamentale Tra l'imprenditore I collaboratori E la squadra Non c'è un vero rapporto Di supporto Ma semplicemente Di problem solving O di facciamo questo Facciamo quell'altro Un rapporto così scarno Porta risultati scarni Ecco le parole Gli aneddoti Dicono tanto Della forza Di un professionista Mi ha colpito Questo esempio Che hai fatto Ti citerò In alcuni casi Questo arrivare A fischiettare Un concetto Mi piace molto Questa idea Della musicalità E non a caso Noi anche per il caffè che vale Abbiamo una siglettina Ve la faccio sentire In questo modo Ringraziamo anche il nostro sponsor 101 Caffè E poi torno da Maurizio Papa Intanto per capire Che ci fai in questo mondo Perché oggi Ormai sei un professionista Affermato Ricercato Ma voglio capire Come ci sei arrivato Perché credo che anche Il tuo percorso Non sia stato del tutto semplice Ma me lo racconterai Andiamo a ringraziare Il nostro sponsor Ti chiedo anche Il tuo rapporto col caffè Subito dopo Questo breve promo Di 15 secondi O mia bella madonina Che te brilli le gelunta Tu t'adore il piscinina Ti te domine il mila Sotto a ti se vive la vita Se sta mai qui mani ma Cante in tu lontan de Napoli Sotto a ti se mere Mammi la Leongra Mila Insieme a Maurizio Papa Business coach E' un uomo E' un professionista Che si occupa di affiancare Gli imprenditori A mettere meglio a fuoco I loro obiettivi E a dialogare meglio Con il loro dream team E poi Alle stesse squadre A lavorare meglio Con i loro imprenditori A capire chi è Quale tesoro hanno Nelle mani Perché insomma Anche un leader Oltre ad essere Un valore per sé E un valore anche Per l'impresa Stiamo parlando anche Di responsabilità Evidentemente sociale D'impresa Quindi un discorso allargato Che ci interessa Tutti Anche quelli Che magari Abbiamo un posto fisso Per così dire Maurizio Intanto ti chiedo Il tuo rapporto Con questa bevanda Col caffè Quanti, come Cosa pensi Del caffè italiano Il caffè è buonissimo E ne bevo veramente pochi Perché mi stimolano tanto La caffeina Mi attiva il cuore Eccetera eccetera Quindi ne prendo uno Decaffeinato Talvolta lungo E sulla ritualità Invece Sai il mondo dei bar L'incontrarsi attorno L'usare anche La metafora del caffè Come momento di confronto Di incontro Meraviglioso Anche perché Io lavoro parecchio Nel mondo orica E quindi Seguo delle aziende Da tanti anni Che si occupano Di distribuzione dei prodotti È un settore Veramente particolare Che crea benessere Quando è fatto bene Alle singole persone Ed è bello Perché è anche molto creativo Se sai veramente Applicarti E sai crescere Lì c'è tanto cambiamento I format stanno cambiando In modo importante La ritualità Fondamentale Piero Perché la ritualità È quella che Fa ritornare Alle emozioni E fa vivere Alcuni contesti L'essere umano Perché se togli la ritualità È tutto così liquido Che alla fine Poi ci siamo anche persi Quindi in italiano Vuol dire Ah che bello Quella pittudine del caffè Ah che bello Fermarsi a guardare Un attimo il panorama Ah che bello A stare a cena tutti insieme Mentre magari qualcuno Non guarda il telefono La ritualità È un grande evento Perché ci fa ritrovare Persone e collettività E ricordiamocelo Proprio in tempi in cui La ritualità viene messa A dura prova Dalla fatica Però siamo italiani Ingegniamoci Creatività Guardiamo la partita Insieme ad un amico Collegato via Skype Insomma Una birra di là Una birra di qua Non è esattamente La stessa cosa Ma la facciamo salva In qualche modo Assolutamente Diciamo che cambia il modo Ma lo scopo rimane Bene Insieme Condividiamo Maurizio Come sei diventato Maurizio Papa Business Coach Da dove vieni Come arrivi In questo mondo Riavvolgiamo un po' Il nastro Che ragazzino eri E sognavi Di fare questo mestiere Già da piccolo Guarda È accaduta una cosa strana Poi mi viene da sorridere Perché ho visto Un video dove si vedeva Una mia chitarra Dietro di me Allora Tutto nasce dal fatto Che a parte dei duri personali Quindi tutto nasce Dal 21 ottobre Probabilmente quando sono nato Ma la questione è che Io sono figlio di un avvocato I miei sono siciliani Sono di Catania Wow E mio papà Non mi ha educato Mi ha addestrato A modo giusto E mi sarai anche vulcanico Sì naturalmente Catania insomma Era così buffa Perché lui mi diceva sempre Maurizio La logica dice che Ok Mio papà scherzi a parte Mi ha portato Ad analizzare qualunque cosa accadesse Molto ingegneristico nel modo Ok E quindi Sai Il papà e il figlio Hanno un rapporto Dove comunque Crea un mindset Quindi mi ha reso Molto analitico Nelle cose Nell'osservare cosa accade Nelle aziende Nelle persone In più Pensa Cosa ascolta un figlio A pranzo e a cena Se ti trovi un avvocato A tavola A tavola Casini di azienda Le persone che litigano Pignor Ecco Io penso anche Infanzia che ho avuto Ma insomma Nonostante ciò Ce lo faccio Quindi ti chiede lì Ma perché Sono così tristi Capisci Questo mondo Dell'impresa È così litigioso Insomma Ma mia Di questa parte Sono cresciuto Con tutte le problematiche Di un'azienda Perché l'avvocato Lavora anche molto All'interno delle aziende Dall'altra parte Invece ho una mamma Molto artistica Sarta Ma anche appassionatissima Di musica E mi ha trasmesso Questa sensibilità E anche un modo Di leggere le situazioni Molto diverso Dalla parte razionale E mi è arrivato Questo connubio Quindi Ho continuamente Lavorato in questo modo Perché ti racconto questo? Allora infine Dal mio punto di vista naturale Mi sono accorto Che dall'adolescenza In avanti I miei amici Le persone Anche più grandi di me Si accostavano a me Chiedendomi suggerimenti Cosa ne pensi Di questa cosa? E sai Te ne accorgi dopo Che poi diventa quasi Un'indole Un'inclinazione Quindi Capacità di lettura Delle cose Il mondo si avvicinava Per chiedermi informazioni Dall'altra parte Una grande sensibilità Nel comprendere Cosa è giusto Fare in quel contesto Con quella persona Questa sensibilità Che arriva così Unendo i due mondi Poi mi è toccato Fare il consulente Sai che se sei figlio d'arte Non è che poi Diene nuovo da fare un'altra cosa Mi è toccato Fatto il consulente aziendale Quindi Io praticamente Ho una partita IVA Da quando ho 19 anni Quindi Mio papà mi ha messo A gestire clienti A modo suo Sai i siciliani Sono molto delicati Prendi fai Vai Non rompe Vai E quindi Ho cominciato a gestire Famiglie Imprenditori Da subitissimo Mettendo in pratica Quello che avevo ascoltato E poi mi aveva anche Messo a fianco Un ingegnere Che mi ha insegnato A osservare tutte le dinamiche Di processo All'interno di un'azienda Negli anni 80 Erano loro Questi ingegneri Che si occupavano Al cambiamento Quindi Da dove arrivo Molta analisi Un'analisi ingegneristica Grande sensibilità Con le persone Ho sempre creduto Che il come fare le cose È più importante Del cosa stesso Wow Questo è un concetto Da sotto Ripetimelo Perché è un concetto Che io a mia volta Nel mio mestiere Provo a dire a me Innanzitutto Ma anche a tutti i miei clienti Anche ad esempio Nella narrazione Dico Quando vi raccontate Ricordate che Il come fate Quello che fate Ma soprattutto Come lo fate Siete voi Siete il vero La vera essenza di voi No? Eh sì Piero Perché le persone In fin dei conti Si ricordano Di te Per come le hai fatte sentire Non per cosa gli hai detto E quindi Forte di questo elemento Che mi ha sempre caratterizzato Poi ho unito i puntini E quindi Ho fatto il consulente Fino al 2000 Proprio consulente aziendale Nella maniera Anni 80 e 90 Poi ho dato Veramente sfogo Alla comprensione Dell'essere umano Dell'amente umana Ho cominciato a formarmi A più Non posso Da Praticamente Dall'età di 27 28 anni E non ho mai smesso Ancora oggi Senti hai usato Le parole davvero Sono straordinarie Ho usato Uniti i puntini Quando Jobs Raccontò questo aneddoto La prima volta Io dissi Ecco Ha preso forma Un qualcosa Che ho sempre immaginato Non riuscivo a dirlo In maniera così precisa Anche tu In qualche modo Lo prendi da lì O ti viene da altro Questo concetto Dell'unire i puntini Piero io ho 57 anni E ho scoperto che la vita La capisci poi Ti accadono delle cose Fai delle cose Ma il significato Lo comprendi dopo Quindi io lo avvivo Veramente Questo unire i puntini Mi sono accadute delle cose Che veramente ho unito Dei puntini E dopo hanno avuto un senso Molto spesso Ti accadono delle cose Che a breve termine Non è che arrivano Proprio in punta di piedi Terri uno sventolone Ma col tempo le ringrazi E quello si chiama Cambiamento E maturità Crescita Comprendere chi sei A cosa servi Che si chiama anche Mission personale La mia è provocare il cambiamento Quindi anche tu credi Che le cose non accadono Esattamente per caso Io non credo alle coincidenze Sono eventualmente Delle scoincidenze Ma le cose arrivano Per un motivo Soprattutto se sai leggerle Ma arrivano comunque Beh abbiamo capito Come Maurizio Papa È entrato in questo mestiere Avete visto un papà Che è stato determinante Ti avrei detto Chi è stato il tuo primo mentore Insomma Lui Mi ha insegnato I valori della professione Io questo lavoro Non lo chiamo lavoro Ma è una professione Che è un termine Che dice tante altre cose Cosa vuol dire Comunicare con un cliente Gestire un cliente Cosa vuol dire Dargli valore Al di là del tuo compito Della tua difficoltà E chiaramente Mi ha formato da subito Su questo Restiamo su questo Un attimo Papà Un mentore Tu lo sei In fondo per questi imprenditori Per il ruolo che fai Altri mentori Che hai incontrato Lungo il tuo percorso Che ti hanno Che hanno lasciato un po' Il segno Di quello E del modo in cui lavori oggi Guarda Ci sono amici Che ho seguito E stimato così tanto Perché erano persone Che già da quando avevano 26-27 anni Sai quelli che portano risultati Subito E non fanno nessun corso Li ho conosciuti Talenti veri E ce n'è diversi Uno potrebbe essere Per esempio Un musicista Molto affermato Si chiama Massimo Varini Un grande chitarrista Che ha messo firme Su milioni di dischi E lui ha una mentalità Molto performante Da autodidatta Mettiamola così Quando ci confrontiamo E lui Viene sempre fuori Una meraviglia E poi naturalmente Ci sono professionisti Importanti Roberto è uno di questi Perché io ho cominciato Nel 98-99 A seguirlo A fare l'academy Alcuni percorsi Sicuramente È quello che mi ha generato Un mindset importante La prima In verità È un'altra coach Che ho preso Per i fatti miei Ancora prima Di fare le varie academy Perché li ho chiesto Ascolta Aiutemi a capire Chi sono veramente E a cosa servo Perché mi sono stufato Di avere troppi dubbi Su di me E sul mondo E quindi ho preso Una persona Non è che una volta Non si chiamava coach Ma infine È stata una coach E mi ha cambiato Veramente la vita Perché mi ha messo Davanti chi ero Oltre le mie famose Credenze Ecco su questo Perché questa roba qui Che stai dicendo adesso Quest'ultima Non è un esercizio Che puoi fare da solo Cioè La cosa che si avvicina Di più È uno specchio Che ti restituisce Un pezzo dell'immagine Ma ci vuole esattamente Invece una persona Che sappia fare Lo specchio in questo No? Sì Piero Perché Se un computer Ha un problema Forse non si può sistemare Da solo Ci vuole qualcuno Dall'esterno Che gli dica No guarda Che due più due Non fa soltanto quattro Per assurdo La questione è che L'evento esterno Il vero trucco Il vero trucco della crescita Piero è dare significati Diversi Ai soliti eventi Ma questa cosa Non è per niente naturale È difficile che il modello Si autogeneri così O magari ci vogliono Vent'anni Se arriva uno da fuori Ti aiuta Non a dare A darti le sue chiavi di lettura Ma ti aiuta A creare un modello Più potente Sul tuo sito Che è team allineati Quindi a parte Mauriziopapa.com Tu hai sentito il bisogno Ecco il fatto stesso Che tu abbia anche Un secondo sito Dove provi a raccontare Questa parte E si apre il sito Dicendo Scopri come creare Una squadra affiatata E che lotta Per gli stessi obiettivi È un obiettivo Ancora più grande Questo E forse È la partita vera Dell'imprenditore Assolutamente La squadra Risponde Alla parte Più concreta Dell'idea Dell'imprenditore Perché l'imprenditore Nonostante la sua genialità Per fortuna Da solo Non può realizzare Ciò che ha in mente Perché in fin di conti La squadra Non è altro che Non sono altro che Le braccia I muscoli Il corpo Rispetto Alla mente Che è la parte creativa Dell'imprenditore E quindi Nel tutt'uno È perfetto Ma se l'imprenditore Non sa gestire una squadra Non sa creare Per di tutti una squadra Molto spesso ti direi Non sa veramente Cos'è una squadra E allora È costretto a lavorare Con tante persone Una alla volta Anche se ne ha di fronte dieci Ne guarda una alla volta Negli occhi La squadra non parte La squadra non è Che la crei Perché hai dieci persone Con te Che lavorano con te Da tanti anni Ci lavori gomito a gomito Non è una squadra quella Quella è un gruppo di persone Che lavorano verso Speriamo Stesso obiettivo La squadra è una cosa Che devi coltivare È un minestrone a fuoco lento Devi sapere cosa fare Come valutare Cosa sta accadendo Quindi La questione è È più difficile Lavorare con la squadra? No Ci vuole un metodo diverso Devi sapere però Che cos'è una squadra E dico sempre questo Se abbiamo una squadra E siamo in dieci Con la squadra Siamo in undici Perché La squadra è un'entità A sé Che ragiona In un altro modo Che è la media Di quello che sente I valori Le emozioni E le competenze Degli altri Più uno Cosa mi perdo Se non riesco A realizzare Questo obiettivo Ad avere una squadra Appunto allineata Che Che aggiunge qualcosa Cosa perdo? La prima cosa Che mi viene in mente Più che perdi E mamma mia Quanta fatica farai Perché Quando tu hai parlato Con una persona Hai finito il tuo discorso Ma quella persona Poi torna nel suo ufficio E incontra altre persone Che insieme Hanno creato La loro squadra E quindi Quando tu dirai una cosa Se non hai una squadra Alla macchinetta del caffè Quel collaboratore Dirà tutt'altra cosa Ma non è cattivo È che lui sta Elaborando a modo suo Qualcosa che non è mai Stato gestito Come collettività Quindi la squadra È impossibile non averla Purtroppo ce l'abbiamo Ma non è quella Che l'imprenditore vorrebbe Se ne accorge Dal gossip Da quello che le persone Dicono di diverso Da quello che lui vorrebbe Da tutte le squadre A macchia di leopardo Che ci sono in azienda Senti Spesso l'imprenditore Quando si sfoga O quando ci si sfoga Tra imprenditori e professionisti In effetti Una delle narrazioni Che viene fuori È questa sensazione Che l'imprenditore ha A volte deve avere Quasi nemici in casa E qualche volta Davvero la squadra Quasi È come se si allineasse A demolire L'imprenditore Perché accade questo Tieni conto che Le persone sosterranno Solo ciò che hanno Contribuito a creare Questa è la frase Che racchiude tutto Le persone hanno bisogno Proprio bisogno Di comprendere Chi sei imprenditore Cosa vuoi in generale Cosa vuoi da loro Se questo non è chiaro Già le persone Nella mancanza di chiarezza Si difendono Quando una persona Comincia a difendersi È finita Perché vuol dire Che diventa Si dice perimetrale Guardo il mio E attaccherò Il collega Il capo Chiunque voglia Destabilizzare Il mio equilibrio Dove purtroppo Spesso l'equilibrio Non è tanto La produttività Ma la comodità Si chiamano abitudini A questo punto La strada La squadra È frammentata È rotta Quindi La questione È che l'imprenditore A quel punto Ha a che fare Con mille macchioline Di squadre Non si capisce più niente In riunione Ti dicono una cosa Davanti te ne dicono un'altra Si prendono l'impegno E poi non lo fanno È tutto il contrario di tutto E poi Osserverai Piero Che i problemi Diventano sempre gli stessi Si fanno decine di riunioni Dove si parla di quel problema Non c'è mai la soluzione E i problemi Rimangono inchiodati là Questo è L'elemento chiave Che fa capire Che la squadra non c'è E che le persone Resistono l'un l'altra Anziché supportarsi Questo è perché Manca un allineamento di team Un altro elemento critico Nel nostro paese Che ci fa perdere gioielli Di famiglia Della famiglia Italia Spesso in maniera molto forte A volte è una salvezza Il fatto che alcune aziende Vadano a finire in pancia Multinazionali Che svolgono un ruolo Di tenere quelle aziende In un sistema globale Che ha le sue regole Altre volte però Non è esattamente così Ecco Quando Una squadra poi serve Anche a gestire bene Quello che è il passaggio Generazionale E quello che è il futuro Dell'impresa Che deve resistere Anche alla vita stessa Del suo fondatore Ecco Quali sono le complicanze Cosa ti capita di vedere All'interno dell'azienda media italiana Allora diciamo che Su questo argomento Cominciamo allora A dividere due tipi di squadre Potrebbe esserci il board O CDA Dove c'è quindi La proprietà Se parliamo di PMI Quindi i genitori Con i figli E poi quella manageriale Che sono responsabili Di funzione Che devono realizzare L'idea strategica La questione Piero È che Il passaggio generazionale Non è un'intenzione Non è una cosa Che è un calendario Accade naturalmente Ma è un processo Come tale Prima di tutto Va cominciato E non è così scontato Che è diverso Da mettiti a fianco a me E impara Non è quello Secondo Vuol dire Che devo sapere cosa fare Come gestire Il passaggio generazionale E anche cosa mi devo aspettare Perché nel passaggio generazionale Prima o poi Il figlio Un calcio a padre lo tira Si chiama personalità Non si chiama Tu non mi capisci È normale Se ciò accade Se non accade È quasi un problema Quindi La questione È che di solito Il papà e i figli Hanno personalità molto diverse Valori diversi E quindi Il come scarica una terra Nel quotidiano Prima o poi crea conflitto Il conflitto Dovrebbe essere un vantaggio Perché vuol dire Che mettiamo insieme Il nostro modo Le nostre idee Diventa un problema Quando questo conflitto Che si chiama ideologico Diventa personale E lo diventa Se non è gestito E rischia anche una contrapposizione Tra proprio il team Cioè i manager E i figli Piuttosto che i manager I figli Rispetto all'imprenditore Cioè si vanno a creare Delle vere e proprie squadre Di contrapposizione Il seguace Certo Perché poi c'è qualcuno Che tifa Per il senior C'è qualcuno Che tifa per i junior Perché dipende Ancora una volta Dall'empatia E allora Si rompe ancora una volta La squadra Perché quindi Se c'è una parte Di manager Che seguono il figlio E uno che segue il padre Abbiamo rotto l'azienda In tanti spicchietti E soprattutto I litigi All'interno della famiglia Sporcano totalmente La relazione La stima E il futuro Dei manager Che dicono Mamma mia Cosa sta accadendo Cosa ci accadrà Perché il manager Fondamentalmente È affidato Alla leadership Del board E se questi litigano L'effetto della litiga Arriva in basso In tutto l'organigramma Quindi ci sono Dei danni enormi E ogni volta Che in riunione Si litiga Anche perché Avrei notato Piero Che quando le persone Litigano due o tre volte Poi litigeranno Il tempo di litiga Si accende sempre prima E se prima Discutevano otto minuti Poi se arrabbiavano Dopo diventa otto secondi Oltretutto il rischio Anche strategico Sto pensando Di perdere un manager È pazzesco Perché il manager Quando poi Per sua natura Va in un'altra azienda Spesso magari Anche un'azienda rivale Competitor della prima Si porta Un bagaglio Di informazioni Che possono fare la differenza Nell'altra azienda No? La questione Piero È che Nel conflitto personale Se la persona A dice un'idea Oggettivamente valida Siccome l'ha detta La persona A Non è valida Quindi tutto si rallenta La strategia Quindi non è più valutata Oggettivamente Per il suo potere Ma sulla base Di chi l'ha detto Quindi i manager Faranno il tifo Si tifo no Si incastra tutto Tutto diventa difficile Si fanno chilometri Rimanendo sempre Nella solita piastrella È veramente velenosa Come dinamica Siamo ai minuti finali Siamo insieme a Maurizio Papa Business coach Ci sta portando Dentro questo mondo Affascinante Comunque la vediate Sì proprio perché È fatto di conflitti Perché poi il bello E risolverli I conflitti E la pace Dopo la tempesta Credo che è una sensazione Che tu hai provato Molte volte Maurizio vorrei concludere Proprio Chiedendoti di portarci Dentro Un caso tipo Sono l'imprenditore Appena mi rendo conto Che faccio fatica Da un lato Magari coi figli Dall'altro Coi manager Che la squadra Non è esattamente allineata Ti chiedo di intervenire Ecco Cosa succede Dal momento in cui Io ti faccio questa richiesta In che modo ti muovi Cosa mi posso aspettare Che accada Nella mia azienda Appena Maurizio arriva Tieni conto Piero Che la prima cosa Che farò È intervistare te Perché ho bisogno Di capire Cosa tu Osservi E lamenti Del tuo mondo Perché la prima cosa Fondamentale Che dobbiamo sapere Che tu Piero Avrai la tua verità Che non è la verità È soltanto L'osservazione Di uno spicchio Della mela Quindi devo capire Su cosa ti concentri Appena tu Mi comunicherai Le tue problematiche Che vivi Io già mi devo immaginare Quali sono Quei tuoi stessi comportamenti Che generano Quello che tu lamenti Primo Secondo Vado a Già Farmi il film Di Dei tipi Dei collaboratori Che tu avrai Dall'altra parte Che tenderanno A farti percepire Quel problema Perché un problema Da solo Non si genera mai Bisogna essere in due Quindi prima di tutto C'è un'intervista Dopodiché significa Andiamo a lavorare Anche se tu La conosci benissimo Io ho bisogno Di farti scrivere Nero su bianco La tua visione strategica Il tuo progetto Dove vuoi andare Perché chi sei Che vuoi Questo non è mai banale Perché si mettono a punto Delle cose pazzesche Perché l'idea L'impenditore Spesso l'ha avuta anni fa E non l'ha più revisionata Va rivista Quando l'abbiamo messa In modo vendibile Comunicabile Alla squadra Allora poi andiamo Sulla squadra Comunichiamo il progetto strategico E cominciamo A rinvigorire Il concetto di prima L'ingaggio manageriale C'è il tuo ruolo Di cosa devi garantire Quali obiettivi Quali attività E questo va associato Alla persona Guarda già come Proprio in modalità Causa effetto Si riallinea Alla fine Andiamo sui one to one Se è necessario Andiamo a lavorare Sui singoli manager Perché comunque C'è della ruggine Tra loro La performance E quello che credono Di poter fare Sono in quel modo E questo cambia la differenza E questo cambia la differenza Ecco Te lo dico Veramente in maniera Proprio diretta Questo a volte Ha dei prezzi Cioè nel mentre Lavori Scopri delle cose Lavori uno a uno Puoi accorgerti Che c'è qualche prezzo Di vista Te lo raccontavo Prima della trasmissione Di vedere queste dinamiche Già solo con la narrazione Con la messa in scena Delle storie Della storia collettiva Immagino tu abbia visto Tanti abbracci E qualche lacrima Magari Assolutamente sì Devono esserci entrambi Perché se no C'è qualcosa che non va La lacrima È un ottimo sentiment Che fa capire Che la persona Sta rielaborando E la gioia È un aspetto conseguente Ed è una gioia pura Se passa attraverso Qualche consapevolezza Siamo davvero Ai minuti finali Che sono volati Perché l'argomento Era davvero straordinario E poi ho parlato Con una persona Che si sente Che fa questa cosa Perché è la sua cosa Il suo centro Ci ha anche spiegato perché Io davvero sono alla ricerca Di persone così E di storie così Il caffè che vale È esattamente questo Quindi ringrazio ancora una volta L'amico e partner Anche di questo progetto Gianluca Lo stimolo Che mi ha segnalato Questa storia Perché sono certo Che oggi vi ho regalato Un altro grande caffè E mi resta ancora Qualche minuto Ecco Di nuovo faccio L'avvocato del diavolo Ma ti sto raccontando Tutto di me Anche le cose Che non ho detto magari Boh A mia moglie Qualche volta Ai miei figli Ti ho dovuto dire tutto Mi posso fidare? Assolutamente sì Primo perché È un valore La riservatezza È un valore Che vivo da quando Ho 19 anni Perché con la professione Non si scherza Quindi già a quei tempi Mi arrivo in contatto Con dei segreti Pazzeschi Puoi immaginare Ma soprattutto sì Perché per me Non sono segreti Ma sono elementi fondamentali Di quella persona E sinceramente Sono le sue fondamenta E sono il suo bello Perché non si è mai giudicanti Durante rapporti One to one Ma si osservano Per quale motivo Faccio quella cosa E se è funzionale A me stesso Oppure no Il giudizio viene Lasciato fuori dalla porta Molti molti chilometri prima Chiudo con un'ultima domanda Che in parte è uscita In tutto il caffè Perché lo fai? Perché do un senso Alla mia vita È l'unico modo per farlo La mia mission È provocare il cambiamento E io Mi sento me stesso Soltanto quando faccio questo Perché mi accorgo Che anche nel sonno Quando parlo Dico qualcosa Che fa accadere qualcosa Maurizio Papa Il caffè che probabilmente Vi manca Prendetelo insieme Un caffè Magari Voglio dire Nasce la possibilità Di avere Ecco un coach Un business coach Che vi aiuta A svoltare una volta di più Nella vostra vita A performare una volta di più Grazie Maurizio Davvero e buon lavoro Grazie a te Piero Grazie ancora dell'invito Un caffè che vale Espresso scende moca sale Serve a farci avere Quella marcia in più Un caffè che vale Senza esagerare Senza esagerare Serve a questa Italia Per tenersi su Un caffè che vale Rito nazionale È un caffè che vale Grazie a te Grazie a te Grazie a te